Mmm, mmm, mamma! Fettami, stai meglio. Dopo oggi stai meglio. Dal manicomio. Ti devono mettere con la camicia di forza. Mentre la stanza comincia a dare le capocciate in faccia a tutti. Ti senti un po' giù di morale. Non sta andato tutto bene. Quella sta a fare un po' la strana. L'esame non è andato bene. Eccomi qua, ci sto io, ti faccio sorridere io. Ti faccio sorridere con che cosa? Ho qualcosa da magna buono. Non ti rifugiate nel fast food. Quella roba che ti portano a casa, che non sai da dove vieni, chi ha a fa tutto quanto. Falla con ste mani, falle con le mani tue, mi raccomando. Ti faccio ridere. Mi scommetti se tu mi fai questa ricetta ridi? Mo te lo faccio vedere. Il pane e cipolle, quello buono. La salsiccia ci vuole, quella buona. La mozzarella, un fior di latte, anzi la gerola. La cipolla, pomodori secchi se ce l'hai dentro casa. Aglio, peroncino e cicoria. Pochi ingredienti, ma quelli che piacciono a noi. Quelli che ti fanno proprio... Iniziamo con la cipolla. La peliamo. Allora, un panino che si rispetta, ignorante, così. Tanto stai da solo, stai da solo. Lei è la Cianna. La Cianna, non vuole che sta cotta, non fa niente. Non ti preoccupa, ritornerà. Appena sente questo profumo, vediamo che ritorna. Si arampica, fa l'omoragno, c'è la donna ragno? Può darsi, arampica sul barcone, appena sente il profumo. Questa è una cipolla speciale, ma è data Sandro. È la cipolla di chivasso. No, non se ne accorgi lei che sta piangendo per lei. Stai piangendo per la cipolla, perché è molto aggressiva sta cipolla, che te frega. Vai e tagliala, tagliala. Non vogliamo godere, la nostra missione è godere. Ma che ci frega, non ti deve fregare, vedrai che tutto si sistema, tutto andrà alla grande. Tagliare la cipolla sottile sottile, se ci riesci. Qualcuno ti riuscirà a sottile, qualcuno meno, ma sti cavoli, vai, ci riusciamo. Se no c'è la parte dolce di questo panino, pensa al resto che è. Mannaggia, se la cipolla è la parte dolce, non sai al resto che è. Bolle l'acqua, butta un po' di sale, perché ci dobbiamo cuoce la cicoria. E lui che ti faccia vedere come si resta la cicoria, no? Eh, ti sei lasciata quella, boh, sta tranquillo, sereno, impegnate la cicoria. Tre volte la dita va, minimo. Quando l'acqua è trasparente, è pulita, è pronta. Mi raccomando, vada al mercato a comprare questa cicoria, non compra quelle buste, ti costa di più, tu sei studente, non c'è una lira, voi sta attento. Cavolo, queste sono l'economia, vai, via. Dai una bella, una bella incarcagnata, vai, così. Ecco qua, un goccetto d'olio, così, la cipolla. Falla stufare un pochetto, senza mettere niente, solo un po' di sale, ok? Poco, non esagerare, che poi ci devo mettere la salsiccia. Dagli una girata e la facciamo un po' appassita sola. I pomodori secchi gli diamo uno sprint a questa cicoria che tu non sai. Dagli una tagliata, sottile, sottile. Poi, aglio, pulita. E così abbiamo pure l'aglio pronto per la nostra cicoria. Meno male, sei nannata, non gli piaceva l'aglio. Bello, lo sai che fanno? Tre spicchi di aglio, così si impara. Terzo spicchio, come da promessa. Ti insegno un trucco. Qua ti senti la cicoria seccotta. Ancora proprio un attimo, un attimo, un attimo. Peperoncino. Tagliano un po', che a noi ci piace un po' piccante questa cicoria. Di piccante ti è rimasto solo questo per un po'. Eccola qua, pronta. Vedi, come dicevi madre, tanto tempo a lavarla, tanto tempo a capalla. Poi, una volta lessata non ti rimane niente di verdura. C'è ragione le mati, le mati c'hanno sempre ragione. Eppure su quella c'hanno ragione. Che ti diceva? Che andava bene quello, non andava bene, non era per te. Guarda qua che sta succedendo. Vedi? Guarda. Piano piano si sta stufando. Bene bene, guarda che spettacolo. Che sorpresa. Adesso mettiamo da una parte, così. Alziamo un pochetto. Adesso diamo il colpetto di grazia. Ora non ci sta più nessuno che ti aiuta a punire i piatti. Ti devo dare una mano io. Guarda che ti dico, guarda, facciamo così. Apri così, con la stessa padella. Ora usiamo la stessa padella, così non sporchi tanto. Vediamo la pelle. Mi raccomando, macinata grossa. Guarda quella roba là, che è macinata sottile sottile. Che sembra ciappi ciappi. Tagli un po'. Ti piace così? E vai. Oh, ma noi dobbiamo essere allegri. Quindi ce ne servono. Almeno due ce ne servono. Ecco qua. Guarda qua. Vedi che faccio? Faccio sto lavoretto qua adesso, vedi? Da una parte mi gioco la cipolla, e dall'altra questa la salsiccetta. Sono bravo, ti voglio beve. Perché faccio zattante oggi eh? Olio, la cicoria. Aglio a sfregio, tre spicchi. Così, vai. Aspetta, dagli un'allargata. Così. Allora l'aglio lo mettiamo sopra, sennò si brucia troppo. Così. Vai. Allarga bene la cicoria. Proprio se deve diventare bella quasi fritta. Intanto controllo tutto eh? Mamma mia ragazzi. Qua sono proprio sogni erotici eh? Un po' di sale, i pomodori secchi, un pezzettino troncino. Già dai due del sorriso, già dimenticato in parte, tutte le serate ti dicevano ma con tutto questo sporco che vicino al verso che facciamo, che ti devo dire, che ti devo dire. E tu abbozzati. E tu abbozzati. E tu abbozzati. Dicevano in te fuori, ci penso io. Ah! Boh, invece te la copi. Ti attacchi a un bel bicchietterino, a una bella birretta ghiacciata. Ma chi sta meglio di te oggi? Guarda qua questa cipolla, guarda. La cipolla è pronta. Mamma mia ragazzi, vai. Ah! Allora, non la fa asciugare troppo la salsiccia, cotta, ma non troppo asciugata, mi raccomando, eh. Fior di latte. Questo è proprio da Balordi, eh. Questa proprio, ragazzi, ci restano, dopo di questa ci restano. Basta. E il pane lo vuoi scallare? Che vuoi fare? Vuoi godere a metà? E dai, eh. Senti che pane ho. Mamma mia. Vabbè, una fetta a metà, dai. Tiè. La sola te ne fai due, vai. Pane, un goccetto d'olio sul pane, coperchio, famo sciogliere sta mozzarella. Vedi, se qua si è appiccicato, eh. Vediamo l'aglio. Aia! Aia! Poggio qua. Ah! Bella! Così la volevo. Tiè. Vai. Tiè. Olè, 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 olè. Io sono pronto. Spengo tutto. Tiè. Cioè, questa è proprio la Tarzan, questa, eh. Questo, ah, 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 ah. Questo per così fai quando puoi svegliare questo panino. Tiè. No, vabbè, due ne vuoi. Procosidato proprio, eh. Mamma mia, tiè. Cipolla. Io voglio fare una scommessa con te, so sicuro. Se adesso lei ti chiama, dici usciamo, amore. Cos'è mi fanno a Roma? Tiè. Prima mangi e poi uscimo. La birretta se la fa, così che se la fa, dai. Mi vuoi bagnare il panino? Aiuto. Già che ti avrebbe detto, guarda che fai, sempre un casino. Eh, lascia questa. Lascia questa. Ho fatto bene. Madonna, ragazzi, esagerato. No, esagerato. Aspetta un attimo. Ho tagliato a metà, eh. Guarda quale ci sta qua dentro. Guarda. Lo stai a vedere, eh. Ti già sta a immaginare questo coso in bocca quando mozzi come stai. Sei pronto? Alla fine quello che conta sei tu. Devi stare bene te. Se sei bene te, stanno bene tutti. Sicuramente tu non stavi bene. Ecco perché è successo sotto questo. Quindi ti devi coccolare. Bravo. Ho proprio capito così. Coccolare come abbiamo fatto oggi. Mmm. 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 Mmm.